Ratchet è l'uomo che abbiamo visto sull'Infobot, ricordi, conosce il Capitano Quark? Ehi, sei il ragazzo dei robot, giusto? No, per l'esattezza io costruisco i robot, non sono il ragazzo che se la faco i robot, comprendi? Che sfigato! A me è simpatico! Beh, ora che abbiamo chiarito tutto, che posso fare per voi? C'era la tua pubblicità sull'Infobot, eri con il Capitano Quark, lo stiamo cercando e pensiamo che potresti aiutarci Già, sembrerebbe logico, ma non vedo il Capitano Quark dal giorno in cui abbiamo filmato quella pubblicità Di un po', utilizzi Sisterboard Standard XP 18? Versione 7.66 Molto interessante, potrei anche pensare di aiutarvi, ti va un bel potenziamento modello a Elipak? Potenziamento? Esatto, dato che è un 7.66, dovrei riuscire a farlo volare in pochi secondi, ovviamente dovrete darmi un compenso per questo servizio Vedrai, non sentirai niente Ehi, no, aspetta! E se sei un figo o no? Eh, sì, sei un vero figo, Clank È stato un piacere Prova a utilizzare la funzione salto caricato del tuo Elipzaino per superare questi scatolini Premi il tasto R1 per accovacciarti, quindi salta Grazie a tutti!